Benvenuti in questo nuovo di Fortnite, quest'oggi challenge molto semplice ma molto specifica ma non sarà per niente semplice da fare ma è semplice da dire ovvero cerchiamo di prendere tutte le armi mitiche non in un unico match perché penso sia follia pura perché noi stiamo registrando questo video ancora di domenica quindi tutti vanno là ma cerchiamo di scendere un tot di volte, ottenere tutte le armi mitiche e provarle tutte per vedere quanto sono corti sono molto curioso, andiamo subito su PortaCreatorst2317 per supportare questi video di Fortnite se vi piacciono da vedere e speriamo che la cara Epic ci risparmi e non ci faccia impazzire troppo durante questi match perché sarà tosta Primo Land Gran Ghiacciaio che sarebbe l'hotel che si vedeva nel trailer questo posto è stupendo ma è incredibilmente gigantesco e aperto il rischio morte è del 300% e noi giustamente scendiamo qua per iniziare la nostra avventura non si può salire nel tetto è un bagliato il landing bravi tutti ho perso 19 di vita da solo bene? si è un NPC ok meno male è finito è il problema ma il boss è qua, è qua, è qua, è qua, qua staffa al centro ci sono? c'era un NPC ma anche il boss non sto perdendo la sua visione fa fighting c'ha una vita scusa mi si è pullato? io non ho mai visto un boss che si cura però ma ha lanciato tipo anche un input si l'ho visto ho sette colpi però a questo problema è basso in realtà che prende un'altra arma rega ma stiamo scherzando quanta vita ha? eh un bel po' di vita prima arma mitica e voi direte che fortuna e io c'ho ragione con voi c'ho un culo incredibile come vedete sto rigenerando lo scudo perché ogni medaglione ti fa rigenerare tre di scudo se ne prendi un sacco e come lo tieni? eh in alimentario è fighissimo vedi? ah ok 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 quindi è la stessa perfetta ci sarà la challenge di avere cinque medaglioni è fuori di testa ma sarebbe bellissima allora ascoltami un attimo ti faccio vedere una roba dimmi praticamente tu dici che schifo di loot no? si due casse normali una epica si guarda qua escono le armi con tutti gli attachment oh qua possiamo quest'arma non è modificabile aiuto che paura eh no devo provarle Steph perché mostro non le sto capendo guarda tante munizioni prendi prendi non si può eh esatto vabbè io lo ho pigliato eh questo che cos'è? pistola non grazie ah guarda Steph dimmi con l'oro compri i potenziamenti eh io non lo posso sei l'arma idonea eh ma scegli proprio liste elezioni eh ok vabbè la prima arma ce l'abbiamo ragazzi ed è la K ma questo ghiacciaio incredibile che tipo nella terra non esiste più perché l'abbiamo fatti sciogliere tutti meraviglioso c'è montagne così grandi su fornette secondo me non ci sono mai state è possente è proprio sai che però io un rampinetto l'avrei messo? è più o meno a cielo so raga però proprio un rampino classico no un rampino classico troppo bello cioè secondo me il rampino lo devi tenere perenne cioè ci facciamo tipo la foto e la pubblichiamo nella nostra chat di discord paesaggi ok cosa ne pensi? che ci prendiamo sto trampolino e scendiamo ok non ti è piaciuta come è? no lo vedo uno qui aspetta sto buttando gli possiamo andare in da face gli sto andando in da face mi ha visto? eccolo ok raga sto a R rotto però dove ce l'hai l'amico? eccolo 110 morto mamma sto cecchino è bellissimo qua coraggioso ho un problema con sto cecchino mi piace troppo vado stanno andando troppo giù i colpi rischio sapete che cos'è raga? che è la prima volta l'ho realizzato adesso che abbiamo un cecchino che non mira troppo quindi è è buono nel medium range chi era? per noi no sì 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 è qua sotto vabbè io cosa devo fare? me ne vado via non riesco non riesco a provare l'AR mitico perché continuo a shotarli con questo fucile vado a farmi un caffè è meraviglioso quando finisce il match qua dovremmo fare il titolo sul cecchino invece che aspetta raccato morto mi fa piacere partecipare non mi piace sto movimento lento quando vai laterale vero è proprio fastidiosino ma anche quando vai dritto guarda cioè è bello esteticamente ma mi dà fastidio come feeling è anche però quando vai dritto uguale mi sa che un team ha almeno due medaglioni allora ne vedo la destra sparano lì mi pare due li ho visti si li sparano 30 30 stanno salendo qua in due sta più visto spari anche la sinistra quindi ecco arriva 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 e uno si ci arriva addosso ok ci sparano io cerco un attimo di coprire qua perché se no ci arriva il team yes occhio perché ci mirano tutti da qua in poi eh lo so non lo vedo più perché vedi che è pieno di copertura però lui stava salendo qua quindi non vorrei che poi ci prenda la scrubista eh si devono stare attenti a sto qua questo ci può rovinare il match eccone sotto di noi hanno lo scudo 37 37 cos'è quella roba? io li ho tirate li appiccico ok 37 37 37 craccato altri 30 Steph li ho fatto malissimo con quelle robe ok e il problema è che si rigenerano come noi eh certo però ti hai tolto anche del bianco? sì il bianco il bianco non si rigenera 30 bianco ma prima anche 50 un altro li vedi sono usciti? eh ma laserato muoio eh raga quello scudo eh sì sì quello scudo eh bello scudo quello lì casino totale perché mentre stavamo scendendo doveva finire di pubblicare il video di reazione post battaglia perché stiamo registrando in quel momento questo video quindi un delirio totale c'è chiunque e ci proviamo ci proviamo raga questo è il boss di griffin quindi è peter quindi lo voglio vedere sono troppo curiosa ma mi devo sistemare perché stavo facendo il pubblico ok ha ammazzato uno io credo di essere nel posto giusto sì arrivo tu sei scemo forte ok ecco porca miseria allora prende danno occhio perché c'è un player ma sta messa a ballare sta ballando è sicura questo è un player no non è un player non ci capisco nulla stavo ho finito i gol che aspetta vediamo un po' ne ho qua no bellissimo ma c'è presente sta scena sì sto malissimo ouch bellissima ok mitico fucile a pompa e ce l'abbiamo ed è un miracolo se vuoi ho buttato il pompa blu forte ah ma non abbiamo preso la tessera come l'abbiamo presa la tessera dobbiamo tornare indietro c'è la zona una morta arrivo due morti dobbiamo correre ah è vero tiratelo per camminare sì esatto sto facendo quello che figa sta roba siamo molto fuori zona molto tanto tanto cioè dobbiamo correre anche per noi sai la roba particolare di questo pompa mitico a Valmirino quindi facevo ma che cavolo sta succedendo e io avevo il mirino col pompa certo aspetta non spararli poi ci hanno visto no non ci hanno visto tanto le rane ho ben seguirli sì giù traccato perfetto ho detto aspettiamo il momento in cui abbiamo un vantaggio totale fatto ha preso danno sì aspettiamo 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 lo vedi sì pronta sì vai bravissima è tantissimo questa R bello ahia sopra aspetta l'ho fatto male no finiamo però dico che mi fa un po' cagare il problema è che se ho messo prendiamo il treno ti prego c'è un player sopra eh eh mi tiro il medikit aspetta non è stato davvero male sono abbastanza sicuro che è sceso quindi occhio eh lo so però mi devo tirare il medikit se no mi ammazza no non è sceso ora sì arriva da noi eh dov'è il bro? di fronte a me mi piaceva molto di più con l'altro mirino il cechino c'è un HP scappa ucciso in volo ok l'ho visto venga qua credo sia entrato ecco 26 brava occhio perché si è nascosto ci ha sparato ok si spara no? 30 ucciso però non era lui c'è un altro c'è un altro è un altro team credo eh li stanno cracato tira le clinger nel cespuglio le ho finite le ho già tirate ho già fatto danno a uno però le ho finite ne ho avuto due ma chi è? eh mi sparano stef perché penso da dietro da dietro vero? mannaggia l'onore troppa gente troppa gente mi fa schifo sto sto pompa raga e non non griffin nine l'altro R potentissimo sto cucinare la pompa poi sono io non amo i single colpi però gol mirino bocciato distese del duello mi chiedo con chi sarà questo duello let's go allora ho capito come si fa comunque ho capito anch'io ho finito i colpi ho finito i colpi aspetta lo sto qui dietro ok occhio ok andiamo a prendere il cavo raga entrambi i cechini sono nel modo in cui non mi piacciono tieni e questo credo che mi sia piaciuto compri l'equipaggia questa però è meglio di averla bianca c'è gente eccolo 110 26 non è morto livello addosso mi hai lanciato dall'altra parte ah sono lì ah no sono guardie giusto non è stata più nulla è la nostra destra? aspetta l'ho chiudata questa basta sono le scatole due ore che giri in tondo ok sembra sembra forte questa error raga secondo me è quello che ho provato nel video che è uscito ieri quando l'avevo preso killando qualcuno secondo me è lui sono abbastanza questo ci ha fatto perdere un match quindi io mi sa che lo piglio a sto giro secondo me c'è il boss arrivo c'è il boss che cura l'aria della tua posizione si è ridotta ho fatto una scemenza te ne posso regalare uno? si prendi ok adesso ti si leggera lo scudo allora ho anche la mitraglietta quindi voglio provarla su delle guardie perché come minimo raga voglio sempre sparare a delle guardie per capire com'è non ci sono più guardie AR e mitraglietta in questo match pompa nell'altro match e l'altra AR nell'altro match ancora 4 di 5 armi mitiche provate lo vedo? è di fronte a me? l'ho laserato? vedo l'altro 28 84 è bianco dobbiamo lasciarli secondo me bianchissimi però ma che rigenerano uno dei due rigenerano non sappiamo chi però ottimamente uno dei due occhio lo stapevo che è rinascosto qui dietro ucciso è lui è lui è lui è lui è lui è qui vai 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 qui 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 no mi ha laggato mi ha scattato io avevo ucciso l'altro ma quanti ne avevano no ma che era dietro sufficiente non c'entrano nulla sti cosi no l'altro aveva l'arma mitica perché sbrillucicava eppure questo ma scattato mi ha preso le spalle non ho capito dove cavolo era sto rosicando per i messi di prima si poteva far meglio potevo far meglio ed è l'arma che avevamo due mitiche e forse prendevamo anche la tezza e ne facevamo 3 su 5 li attenta nello stesso match questo è 4 su 5 però raga i passi e lo so che mi dite metti la rotellina raga mi fa schifo quella roba a schermo cioè non ci posso far nulla dovrebbero loro migliorare un po' i suoni cioè mi sembrava totalmente la sinistra e la destra cosa mancherà secondo te perché abbiamo preso un pompo una mitraglietta e due AR forse è il cecchino forse c'è il cecchino mitico l'arma migliore l'abbiamo lasciata per ultima no vabbè che figo ci hanno mi sono dato il mosso in faccia vabbè hai fatto tutto quindi ho missato tutto altro che aia cos'è ah niente cecchino l'altro pompa eh facciamo il bunker si l'hai presa tu no ma secondo me la card la prende o tu forse la card non c'è più ho capito ed è sta roba che ho io ecco perché intanto dico ma la card si vedi che qua lo stemma la card c'è solo nei posti in cui non hai il boss che ci sono dei bunker normali meglio tardi che mai capire certe cose pompa mitico che spara a raffica AR viola cecchino col mirino che mi piace e adesso andiamo a vincere ora andiamo addirittura dici chiusura delle cinque armi mitiche con win si siccome l'altro match mi è rimasto un po' qua capito ero dietro di te ti sparano ah ma non è la torretta cracato c'hai shotato ah ma è player si due player stavo posta la torretta c'è un'auto qui dietro un micamper uccisi l'auto muoio cracato giù cracato mannaggia stai qua tutta una volta siamo in bellezza con la prima win della season e un bacino sulla torta un bacino sulla fronte della nonna un bacino sulla guancia o la celeggina sulla torta le uniti due si è vero player e guardia 110 quello è il player no? si 30 60 25 occhio ci mira col cecchino mi ha cracato mi uccide è basso? si è quello con lo shield poi io sto shield non lo sopporto già più sono d'accordo è il nuovo martello dei nutellini guarda ogni season te ne mettono uno comunque cosa c'è una certa bot con il pc e il titolo si eccoli eccoli qui in acqua vai spara ben fatta ah va bene occhio occhio sono cazzico lì nerd si sta plazona si prendiamo questa che cosa? questa cuniglia no ci laser secondo me se la prendiamo fere dai ma sto pollo ma davvero ma va ok sponata l'isola ci vuoi andare no però mi sa che di lì spawnano un rift quindi ci prendiamo un rift e ci posizioniamo spero ci sia un rift perché ci prendiamo un rift e ce ne andiamo non c'è un rift si eccolo si eccolo ci lasereranno un po' secondo me ho visto un player lo vedi aspetta vedi tipo adesso pensavo che sarebbe sceso di più il colpo e lo manca dove andiamo alla città e li vedi anche alla destra si è pieno siamo tutti sono tutti in auto che si fightano incredibile c'è anche l'auto che arriva in città occhio eh si si l'ho visto sono appena scesi sono in quella casa di fronte alla nostra lì 33 110 fai lo scemo infatti continua a fai lo scemo è scemo sta regenerando lo shield ah dietro step dietro via copriti vieni dentro l'edificio qua c'è il shield sono dentro con dell'altro edificio eccoli sul tetto 275 è shotato li tiro in faccia ti seguo occhio che mi lancia un attimo uccisi e io non sono riuscita a arrivare perché l'impulso fa tutta la differenza eeeh aeree mitico mitaretea mitica venia tu di fronte a noi giù colpito colpito non lo vedo è dentro il cespuglio sto con lo scudo io gli ho tirato delle appiccicose colpito 30 di shield bravissima e li colpisco sempre con l'appiccicose aia ma proprio laserato ma io non lo so perché in tanto mi prendo il tosto danno una volta eh vabbè raga però mi fa veramente non dico altro veramente fastidioso certe certe meccaniche di sta roba cioè il tipo il cespuglio deve essere irritabile cioè non potevamo farci nulla ero obbligato ad andare così in faccia una schifezza comunque la challenge ce la siamo fatta abbiamo fatto anche un sacco di bei match rosico perché secondo me li abbiamo buttati un po' noi però una cosa positiva c'è sto cechino me lo porta avanti per tutta la season è devastante è veramente veramente incredibile niente ci fermiamo le migliori AR uno dei due mitici e il pompa quello che spara raffico mitico nettamente due migliori dopo che la mitralietta probabilmente speriamo che il video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video ciao